Una strada atipica, perché io vengo dalla radio, la maggior parte dei miei colleghi vengono da altre esperienze, magari più teatrali o comunque di fiction, più attoriali. Io ho cominciato a fare radio, che ero un ragazzino, avevo 12 anni, in Abruzzo, perché io sono abruzzese, sono di Chieti, ho fatto radio di Chieti, ho fatto radio di Pescara, anzi una grande radio di Pescara, è stata l'ultima in ordine di tempo, e dopodiché mi sono trasferito nel 1989, fine 1989, diciamo nel 1990 a Roma. Ho iniziato questa carriera, lo racconto sempre, perché il direttore di una televisione, presso la quale io ho lavorato quattro anni a Pescara, era stato doppiatore, aveva lavorato in teatro con Carmelo Ben, con attori dell'epoca, anche molto famosi, con Silvio Spacesi, eccetera, faceva doppiaggio, me ne parlava, qualche anno prima aveva portato a Roma Roberto Pedicini, che è un mio amico, oltre che collega, e ci sono arrivato in questo modo, ho imparato tutto sul campo, anche se ho fatto, come dire, la parte scuola di edizione appena arrivato a Roma, e poi dei corsi negli anni di recitazione, quasi tutti basati sul metodo Strasberg, ma erano corsi tipo, sai, dieci giorni full immersion, eccetera, eccetera, però, insomma, fondamentalmente il doppiaggio l'ho imparato in sala facendolo. Vedo che sei diventato un pessimo elemento. Io ho avuto la fortuna di conoscere ancora l'anello, cioè quella sezione di pellicola che veniva aggiuntata da pellicola bianca, quindi c'era il primo e l'ultimo fotogramma, poi questa pellicola bianca e girava il tutto all'interno di un proiettore, che non usiamo più, quindi non c'è più il proiezionista, io sono passato poi attraverso le cassette per tanti anni, adesso ci troviamo nell'epoca dei DVD o comunque degli hard disk. Questo ha dato un'accelerazione, cioè tecnicamente le cose sono cambiate perché prima potevi incidere su tre, quattro piste al massimo, addirittura in alcuni stabilimenti in due, quindi vuol dire che se tu hai due piste a disposizione e ci sono otto personaggi, come minimo bisogna fare turni da quattro persone. Oggi questo si può evitare, c'è la famosa colonna separata che vuol dire che tu fai il tuo personaggio e non hai mai nessuno che ti risponde, quindi i tempi sono molto più rapidi, cioè tu riesci a fare in un turno quello che prima facevi in quattro, perché tecnicamente adesso i programmi nuovi dei computer lo permettono e quindi la tecnologia ha dato, ripeto, un'accelerazione e noi ci siamo adeguati o adattati a questa tecnologia, era inevitabile farlo. Quando io sostengo, si arriva e si lavora, non è che me ne vanto, come qualcuno ha scritto una volta su YouTube, vantatene pure, non è che me ne vanto. Io sto semplicemente descrivendo una situazione, cioè oggi si entra, si vede e si fa, perché se non è così, cioè se tu non accetti questo, fai un altro mestiere, cioè non è che Cristian Zanzante può decidere come si doppia, lo decide il mondo che va avanti e quindi a quel punto se tu non hai la velocità del mondo, ripeto, devi pensarne un'altra. Ragazzi seguitemi! Fico! Il doppiaggio è cambiato in questo senso, cioè che non c'è più il contatto umano con gli altri, io non incontro quasi mai nessuno nei film che faccio, cioè tu parlavi di The Walking Dead, The Walking Dead io faccio un turno a puntata, tra l'altro è una serie dove io non parlo nemmeno tanto, anche se trattasi del protagonista, non parla molto Rick, cioè ieri mattina io ho fatto una puntata in meno di due ore, perché avevo una quantità di righe accettabilissima rispetto a quelle che sono le righe che oggi vengono programmate per turno, quindi lo si affronta così, lo si affronta per quello che è, ma non mi sento neanche di criticare, perché effettivamente se la tecnologia ci dà questa possibilità perché non sfruttarla, poi potremmo tutti dire sì, cerchiamo di rallentare, ma non è un problema del doppiaggio, ormai se vuoi stare a certi livelli, sia che tu facci il doppiatore, il giornalista, l'avvocato, l'architetto, quello che ti pare, cioè se sei un libro professionista, per stare ad alti livelli devi lavorare 12 ore al giorno minimo e devi stare sempre sul pezzo, altrimenti sei fuori dal giro. Ho mai provato frustrazione quando un attore che magari aveva doppiato in un film importante è stato poi doppiato, cioè è successo per esempio per Iwan McGregor, cioè voglio dire io Iwan McGregor non l'ho doppiato in alcuni film, io l'ho doppiato nel film della sua vita che è Trainspotting, da quel film in poi Iwan McGregor ha fatto cose anche egregie ma che non hanno mai raggiunto il livello di Trainspotting eppure sono stato sostituito tranquillamente, nel momento in cui l'attore ha ricoperto ruoli in cui sinceramente erano più giusti altri doppiatori, cioè ma perché io dico un direttore di doppiaggio deve farsi un culo tanto per far recitare un attore che non ha le caratteristiche del personaggio che quell'attore sta interpretando. Ragazzi qui dobbiamo essere chiari, nessuno è mai uscito al cinema dicendo ridatemi 8 euro perché non c'è la voce di Grizia Lianzante piuttosto che quella di Francesco Bulca e no di qualche altro mio collega, parlo della mia fascia d'età, non è mai accaduto, quindi se queste cose non accadono è perché la gente evidentemente se ne frega, al di là di quei pochi che ci scrivono su Facebook quotidianamente e che sono appassionati di doppiaggio, vuol dire che sostituire una voce è possibile. Non ci sono ragioni. Ormai questa è la normalità per tante ragioni, primo perché una volta il film non veniva gestito anche da supervisor vari, non veniva gente dall'America a controllare come stessero doppiando il film. Oggi questi vengono e dicono non mi frega niente che Grizia Lianzante l'ha già fatto, d'accordo Grizia Lianzante farà il provino, però voglio sentire altre due voci e voglio avere la libertà di scegliermi io chi deve doppiare il film che in qualche modo è sotto la mia responsabilità. Questa è una ragione. La seconda ragione è economica. Se io doppio un attore 20 volte, la ventunesima volta è difficile sostituirmi, io mi allargo e sparo una cifra improponibile e poi me la devono dare e quindi si è fatto anche per evitare che questo accada. Terza ragione, tu sei un direttore di doppiaggio, io ho fatto un attore con un direttore di doppiaggio che a te non è simpatico, succede che la volta successiva non fosse altro per non ammettere che il tuo collega che non ti è simpatico aveva distribuito me ma io non ero giusto su quell'attore, mi sostituisci e ce ne metti un altro. Anche piccole beghe stupide di poterucci locali a volte determinano una scelta al posto di un altro. Sempre incredibile ma è così. Per gli americani ahimè è la somiglianza vocale perché non capiscono la nostra lingua, quindi si mettono lì col computer e chi ha la voce più giusta vince il provino. Cioè chi ha le frequenze più vicine a quella del doppiatore americano, nel caso in cartone animato, è successo a me con gli incredibili per esempio, dove io sono sicuro di aver vinto il provino perché il ruolo che ho interpretato specialmente di quando lui era bambino era identico all'originale. Ogni volta tu dici sei fedele a te stesso ma non dici mai a quale parte di se stessi bisogna essere fedeli. Mentre se la decisione viene presa in Italia penso, ma insomma sono abbastanza sicuro che il tutto avvenga attraverso una valutazione basata più sulle caratteristiche plurali del personaggio e non tanto sul timbro della voce. Perché poi una voce può star bene su un personaggio o può star male, questo è in dubbio, ci sono delle voci che scollano da certe facce, però quando tu prendi il personaggio, nel senso che gli entri dentro gli occhi, è difficile non credere che quello parli la nostra lingua. Al di là della differenza vocale potrei fare un elenco di doppiatori che hanno doppiato, attori con delle voci completamente diverse, ma erano talmente il personaggio che nessuno si è posto questo problema. Questo non è un lavoro di suoni, la storia della bella voce è una cazzata, cioè è una frase tanto detta, cioè voglio dire, tanto sbagliata quanto diffusa. Questo è un lavoro di interpretazione, cioè tu devi essere prima attore, poi diventi doppio attore. Se non sei attore puoi avere la più bella voce del mondo, dirai delle cose con un bel suono ma non arriverai dal punto di vista emozionale, se non copri quello stato d'animo, se non c'è quella tensione emotiva, se non c'è, ripeto, la costruzione di quel personaggio, attraverso un percorso che è attoriale, non è di suoni. Cioè basta con questa storia, bella voce, brutta voce, bella voce, fai il doppiatore, non è vero niente. Io anche qui potrei fare un elenco di straordinari colleghi che hanno delle voci quasi ridicole, ma sono giusti su certi attori, su certi personaggi, molto più di tante belle voci che sarebbero sbagliate. Io sono un intermediario. Ma anche perché andatevi a vedere un film, guardate una serie, ma quante sono le voci veramente belle? E poi attenzione a non fare la confusione che secondo me fanno in molti, confondere la bella voce con la personalità. A volte uno dice bella voce, ma in realtà non è la bella voce, è la personalità che ti sta arrivando. E siccome tu vieni ammagliato, colpito da quella personalità, dici oddio che bella voce. Ma per esempio mi è piaciuto il Dr. Wu, ma tantissimo. In questo caso? Allonsi! Anche perché quell'attore è straordinario. C'è soltanto un piccolo problema. Avendo dovuto accettare, ma poi accettare io, insomma, accettare dei preventivi abbastanza bassi, siamo stati costretti a correre. Io facevo in una giornata a quello che lui faceva forse in tre mesi. Cioè io facevo in tre turni il lavoro suo di tre mesi, con dei monologhi recitati, ripeto, meravigliosamente. Cose che magari lui aveva studiato per una settimana, io dovevo rifarle in cinque minuti. Questo un po' mi è dispiaciuto, qualche cosa si poteva far meglio. Però è una serie che mi porto nel cuore. Gift and Man, ed è una serie che avrebbe, dico, insomma, tra virgolette, la pretesa di sostituirsi un po' a serie che parlano di medicina, come I.R., come Dottor House, serie che hanno fatto un po' il loro tempo. Doppio Patrick Wilson, un attore che ho doppiato già in tre film di circuito. È una serie bella e questa è una serie che mi ricordo, mi ricorderò, al di là del successo che avrà con Gioia. Poi ce ne sono tante, insomma, sinceramente, sai cos'è che facendo una montagna di roba poi le cose te le scordi? Cioè io davvero domani sera non saprò dirti cosa sono venuto a fare stamattina. Cioè dovrò aprire l'agenda e dì, ah sì, è vero, ero lì e facevo questa cosa. Io non amo tutte le cose che faccio. Ci sono serie che non mi piacciono per niente. È stata una mezza polemica tempo fa su Facebook perché dissi che una serie che è doppio, ho detto proprio mi fa cagare. E lo confermo, The Walking Dead, perché quando vedo gli zombie mi viene a ridere. Che devo fare? Lo posso dire o devo chiedere il permesso agli abbonati? Ok? Gli zombie mi fanno ridere. Dopodiché, dico, è una bella serie, si è suggerita bene, gli attori sono bravi, la fotografia, il montaggio, ma quando arriva mi viene a ridere. Posso ridere o no? Perché uno sembra, eh ma ma... La fai e la crisi, cioè i disputi del piatto dove va, ma qui che cazzo vuol dire? Cioè io sapete quante macchine ho pubblicizzato che non mi comprerei mai e quanti dentifrici che non userei mai? Non vuol dire, cioè uno fa un mestiere, viene chiamato per fare una cosa, l'importante è che la faccia al meglio delle sue capacità, che affronti la cosa professionalmente e che funzioni all'interno di quelle che sono le scene che viene chiamato a doppiare. Non tutto quello che viene fatto è bello e di conseguenza quando noi andiamo in sala a doppiare, quando ce ne accorgiamo, ce ne... come dire, lo possiamo anche dire, oppure no. Io lo dico. Ora l'unico modo per noi due di andare avanti è che tu accetti tutto quello che ho appena detto subito e senza riserve, non ci sarà bisogno di ritornare sull'argomento. Da un po' di anni quando torno a casa di tutto ho voglia tranne che sentire gente che recita, quindi lo dico onestamente, le serie televisive non le seguo, vedo i film che mi piacciono, di solito me li compro e me li vedo a casa quando mi pare, qualche volta vado al cinema, è raro, perché capisci bene, dopo dieci ore dentro una sala, tornare in una sala è l'ultima cosa che vorresti fare. Chi siamo stati spettatori è uno condizionato, certo, perché sento la voce del collega che ho visto fino a due ore prima. Non riconosco meno le donne, forse perché non rappresentano la concorrenza. Grazie a tutti!